buonasera amici anche io sono a casa fatelo anche voi in questi giorni ho chiuso il forte dell'arte il mio atelier a multimario e sono qui sul mio terrazzo di casa si un bel terrazzo dove mi ispiro ma ho dipinto un'opera per me per voi tutti quanti noi il cuore della speranza andrà tutto bene e stiamo a casa aspettiamo che passa questo questo incubo anche per me ma anche per voi ma sono sicuro che saremo più forti di prima perché ognuno di noi prenderà a questo momento critico di ansia di paura la forza per risorgere la forza della rinascita vi auguro a tutti buon pomeriggio restiamo a casa il forte dell'arte francesco forte